Il ruolo di soggetto aggregatore di città metropolitana nei confronti dei nostri comuni è un'opportunità per il nostro ente ma anche per il territorio. Il ruolo di città metropolitana è una grande opportunità innanzitutto per il territorio perché risponde appieno alla funzione di ente al servizio dei comuni, soprattutto su un tema delicatissimo, quali sono gli appalti di opere e servizi pubblici. Abbiamo bisogno di un ente che aiuti i comuni a gestire con legalità, attenzione, competenze e professionalità le ingenti risorse che arriveranno dal PNRR e tutte le attività che vengono portate avanti ordinariamente dai comuni. Poi è un'occasione anche per restituire dignità e forza a un ente che noi pensiamo possa essere traino dello sviluppo economico di tutto il territorio metropolitano. Lo possiamo fare sapendo che questo è un primo step, l'obiettivo è andare avanti, far crescere questa opportunità grazie al lavoro della struttura qualificata che abbiamo. Abbiamo possibilità di lavorare insieme su anticorruzione, far crescere il rating di legalità del nostro territorio. A grandi risorse corrispondono grandi appetiti. Noi abbiamo gli strumenti per prevenire infiltrazione e per far spendere in maniera efficace ed efficiente i soldi che ci arriveranno dal PNRR e dall'Europa.